che è un classico perfetto ok buon pomeriggio a tutti trasmettiamo in diretta la mietitura con mietilega del grano il grano faccio vedere i covoni come vengono legati da questa mietilega degli anni 50 che è stata recuperata da Dardi era del suo nonno dopo ve li facciamo conoscere in diretta siamo in diretta al museo della civiltà contadina in fondo vedete ma li riconoscete sicuramente i nostri volontari del gruppo della statura che hanno permesso questa rievocazione andiamo in diretta al museo Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.